Malvezzi quotidiani, l'economia umanistica spiegata bene. Scrive uno dei lettori sul gruppo Valerio Malvezzi, Economia Umanistica, Telegram. Sono uno degli allievi della Casa dei Matti e posso solo semplicemente restituirvi le mie personali impressioni e sensazioni. Mi rendo conto del fatto che il mio modo di pormi davanti alle cose e alle situazioni è già cambiato. Mi fa stare meglio, mi fa vivere meglio. Ora, capita sovente di pensare di aver capito, pensi di fare bene e a un certo punto, tac, nuova lezione, come l'ultima. Ma porca miseria, questa non ce l'ho, l'introspezione monetaria. Non avevo capito, non avevo considerato. Sono ancora legato al mio ego. Osservo, sì, ma non abbastanza. Sono di nuovo a zero. Beh, posso dirvi che quando cominciate a farvi queste domande, state cambiando il modo di vedere voi stessi e quel che vi circonda. Provateci, non costa veramente nulla, scrive il signor Mauro Quaranta, che ringrazio. Ora, questo messaggio viene scritto sul gruppo Valerio Malvezzi Economia Umanistica Telegram, dove io parlo appunto di Economia Umanistica e poi da lì si entra, se si vuole, in una scuola che appunto si chiama la Casa dei Matti. Questo signore, che fa parte di questa scuola, quindi dice che sta vedendo le cose in modo diverso. Ora, certo, il modo di fare dei matti è diverso e ci sono tante ragioni per cui ho chiamato la mia scuola di Economia Umanistica la Casa dei Matti. Intanto casa perché l'economia è la scienza della casa, ma una particolare tipologia di casa, mi riferisco alla definizione di Aristotele, ma una particolare tipologia di casa che è quella appunto dei matti. Io proprio ieri in biblioteca restituivo un libro che ho riletto, che è il Morian Commium di Erasmo da Rotterdam, Desiderius Erasmus Rotteradamus, in cui appunto si parla dell'elogio della follia e in quella casa di cui parla il signor Mauro, ebbene noi si ragiona di utopia, di un mondo che non c'è, alla Tommaso Moro, Thomas More, un signore che nel 1516 appunto scrive un'opera dal titolo Utopia, che è un gioco di parole greco che vuol dire eutopos, cioè bel luogo, buon luogo, ma anche utopos, cioè luogo che non c'è, un po' come noi potremmo pensare alla canzone di Edoardo Bennato, l'isola che non c'è. Bene, se volete venire nell'isola che non c'è, come il signor Mauro Quaranta che ringrazio, vi invito sul gruppo Telegram Valerio Malvezzi, economia umanistica. Buona economia umanistica!